Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1, 7 km di coda per incidente al km 275 tra Aglio e Calenzano, Sesto Fiorentino in direzione Roma. Per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Barberino di Mugello, proseguire sulla strada provinciale 8 e rientrare in A1 a Calenzano. 4 km di coda per incidente tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In Filippili, 1 km di coda per lavori tra Cascina e Navacchio Visignano in direzione Pisa. Sempre per lavori, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia, rallentamenti per lavori tra Ortonovo e Sarzana in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!